Ah, l'hai finita la casa, Giuliano! Ma come di cosa parlo? Parlo dell'Ista, ah, ma non ho visto tutti che torna dal mare, i bocci che scominciano alla scuola, anzi, a vischia anche al fiole dei ferragni, la fate il soprimile elementari. Maria, ma ridete se il passa al tempo. Ah, noi altri, n'è in avanti con le nostre proloco. Prima però, sigla! Un altro segnale che l'Ista l'hai finita, è il ne arriva dal Tesino. E do che sto weekend che sarà la transumanza. Anca le vacote, le caurote, le ha finire so ferie in malga. Questo weekend a Pieve Tesino non perdetevi la transumanza. Due buoni motivi per andarci? La transumanza è considerata patrimonio dell'UNESCO. Inoltre ci sarà ottimo cibo e musica. Per più informazioni, visitate la pagina Facebook della Proloco. Ah, non so ti Giuliano, ma mi sento un certo langorino. Che pensa la Proloco di Rovereto, che sabato 17 la organizza una cena spettacolo. Cena in piazza in grande stile. La Proloco di Rovereto vi aspetta la sua cena spettacolo. Il menù sarà a base di polenta e baccalà. Volete partecipare? Prenotatevi! Trovate tutte le informazioni sulla pagina Facebook della Proloco. Ma no, nessun'è in tesi da demò ascoltare. Ascolta Giuliano, l'è meglio che niente a fare un po' di movimento dopo tutta sta maniata. Vai che ne accorre? A Luserna! 27 chilometri e 850 metri di dislivello. I volontari della Proloco di Luserna vi aspettano la prima edizione della Luserna Zimbarloft Trail. Una corsa in montagna. Si parte da Luserna alle 8. Chi accetta la sfida? Quasi massa fa di goss per noi altri, Giuliano. Meglio che stente fermi, valassino voler farla dall'ospedale la prossima puntata. Noi ne vedem la settimana che venn. Buon weekend a tutti e... Alla prossima!